E' una grande occasione per metterci in evidenza, anche se voglio ricordare che Carisio ha 220 posti letto, quindi una proporzione abitanti posti letto maggiore della stessa città di Vercelli e della stessa città di Biella, che sono i due capoluoghi a noi vicini. E' un premio per chi ha voluto lavorare, la famiglia perché il tiro a volo è privato, che tanto ha investito e tanto ha creduto in questa struttura che ormai è di importanza e di livello nazionale, ha già ospitato gare di questo tipo appunto, nazionale, regionale, oltre che diversi tipi di trofei e credo che se lo siano meritato questo appuntamento.